Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Sotto gli ultimi video, in tantissimi, mi avete chiesto di parlarvi dell'attuale crisi tra Russia e Ucraina, che è una cosa che non farei perché esula dal contesto storico ed è attualità, è politica. Ma in effetti c'è qualcosa di cui possiamo parlare, cioè quale sia stata l'origine storica di questo conflitto. Ovviamente dovessimo parlare dei rapporti tra Ucraina e Russia, ne verrebbe fuori una pillola lunghissima, ne verrebbero fuori probabilmente una lunga serie di pillole, non è quello che voglio fare. Ma con la pillola di oggi cercherò piuttosto di provare a rispondere a qualcuna delle domande che vengono fatte di più recentemente, soprattutto dal punto di vista storico, e provare a raccontarvi un percorso storico attraverso gli ultimi 30 anni di Ucraina in modo da capire come si sia arrivata la guerra attuale. Una guerra che non è sbucata dal nulla, anche se improvvisamente sembra che abbiamo iniziato a parlarne solo due mesi fa, ma una guerra che affonda le sue ragioni in tutta una serie di problemi tra stati, tra l'Ucraina e la Russia, che sono iniziati grossomodo quando l'Ucraina è diventata autonoma. Quindi questa pillola non vuole essere esaustiva, non può esserlo, altrimenti parleremo veramente per delle ore, ma cercherò solo di darvi degli input, di tracciarvi una linea semplice, ma allo stesso tempo spero il più completa possibile, per capire meglio come si sia arrivati agli avvenimenti moderni. Quindi, come sempre, se non volete perdervi le prossime pillole, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video, poi sigla e cominciamo a parlare. Come dicevo, la nostra trattazione inizierà nel 1991, cioè quando l'Ucraina si staccò dall'Unione Sovietica e diventò una Repubblica Autonoma. Ma prima di cominciare, senza voler partire da Adamo e Deva, assolutamente, ci sono alcune domande a cui bisogna rispondere, e per farlo bisogna andare un po' più indietro, per cercare di capire quale sia l'origine culturale, politica e etnica dell'Ucraina, e quali sono i suoi rapporti con la Russia. Ci sono tre domande che vengono fatte normalmente, o tre affermazioni. La prima di queste affermazioni dice che russi e ucraini siano in realtà lo stesso popolo, perché hanno un'origine comune. La risposta è, diciamo, più complicata di così. Ora, in effetti, il primo nucleo di quello che attualmente è la Russia si può andare a riconoscere nei territori ucraini, nel cosiddetto Rus di Kiev. Lo vedete qua sulla cartina. Un potentato nato, appunto, intorno alla città di Kiev, che nel Medioevo si espanse ad occupare una buona parte dell'attuale Russia europea. Il nome Rus, però, rischia di confondere, perché è vero che è dal termine Rus che deriva al termine Russia, ma in realtà i Rus sono solo parenti degli attuali russi, perché in realtà erano una popolazione di origine scandinava, vichinghi per farvela breve, probabilmente provenienti dalla Svezia, che erano scesi lungo i fiumi della Russia per motivi commerciali e avevano creato questi potentati. Il Rus di Kiev era il più importante, ma altri erano sorti verso nord, come ad esempio Novgorod e così via. Questi Rus, che avevano il loro centro di potere intorno a Kiev, è vero che occuparono una buona parte della Russia, ma in realtà il loro dominio non era particolarmente stabile, tanto che ben presto si frantumò in tutta una serie di principati territori autonomi, e da uno di questi principati, che non era unito a Kiev, ma che era autonomo e che sorse intorno alla città di Mosca, da uno di questi principati, il principato di Mosca, nascerà quel processo di aggregazione che porterà poi alla nascita della Russia, che non nasce a Kiev, ma nasce a Mosca. Su questo si inseriscono anche le polemiche legate alla lingua, perché alcuni linguisti russi per molto tempo hanno considerato l'Ucraino come fosse un dialetto del russo, una derivazione della lingua russa. Dall'altra parte, alcuni ucraini invece dicono che il russo, che è una derivazione dell'Ucraino, che sarebbe nato appunto nella zona del Rus di Kiev, e poi diffondendosi nel nord della Russia avrebbe cambiato alcune cose. In realtà i linguisti moderni dicono che non è così, che le due lingue, il russo e l'ucraino, non sarebbero una derivata dall'altra, ma sarebbero delle lingue sorelle, per così dire, che hanno la stessa origine nel grande ceppo delle lingue slave, e che poi si sono sviluppate per vie parallele a seconda della zona. Parallele e molto interconnesse fra di loro. E qui ci porta la seconda domanda. La seconda domanda è L'Ucraina, come stato? È uno stato che dal punto linguistico e dal punto etnico è unica? È un unico popolo che vive all'interno di quello stato? Eh, questa è la domanda cardine, anche perché, come vedremo, da questo dipenderà molto della politica degli ultimi vent'anni. La risposta in realtà è no, di nuovo. Il russo di Kiev, come vi dicevo, ad un certo punto inizia a frantumarsi, ma questa frantumazione è accelerata e portata a compimento dall'invasione dei mongoli, che nel XIII secolo, prima con Gengis Khan e poi con i suoi successori, si spinsero anche in territorio russo, crearono la cosiddetta Orda d'Oro, razziarono questi territori e li conquistarono, in parte vassallizzandoli e in parte occupandoli. Da questo momento, il territorio ucraino inizierà ad essere conteso, perché i mongoli inizieranno progressivamente a ritirarsi, sconfitti dalle popolazioni locali, e il territorio dell'attuale Ucraina verrà letteralmente spartito in varie parti. Nella parte più occidentale, sarà conquistato dai polacchi e dai lituani, che poi formeranno uno stato unico, la grande confederazione polacco-lituana, che dominerà tutto l'Oriente per quasi due secoli. Quella zona, che era occupata già dai russi di Kiev, potremmo definirla la proto-ucraina, dove si parlava in effetti in ucraino, non si parlava in russo, e dove vivevano le genti ucraine. Nella zona più orientale, invece, quella l'ultima da cui si ritirarono i mongoli, i primi a insediarsi saranno invece i russi, che provenienti da nord, scenderanno ad occupare quel territorio man mano che i mongoli si ritiravano. E in mezzo? Beh, in mezzo esistevano due stati. Esisteva l'ultimo stato discendente dai mongoli rimasto, cioè il canato di Crimea, che esisterà ancora per molto tempo, il canato d'Azovi, in realtà connesso all'impero ottomano, ma questo a noi non interessa, ed esisteva uno stato che fu autonomo per molti anni, un potentato cosacco, abitato appunto da cosacchi. Ed è qui che di nuovo inizia un problema. Perché chi erano questi cosacchi? La risposta in realtà è che non lo sappiamo. E sarebbe molto interessante saperlo, perché ovviamente gli ucraini dicono che erano semplicemente ucraini mischiatisi con le popolazioni mongole, i russi dicono che erano un popolo completamente autonomo. Probabilmente i cosacchi, sempre secondo gli storici attuali, erano in realtà un popolo misto, che come avevi detto occupava veramente un po' il centro dell'attuale Ucraina, in cui convivevano mongoli, russi, ucraini, che erano fuggiti dalle rispettive terre e si erano unite in questo popolo, che si univa appunto una serie di popoli diversi. Perché gli ucraini erano fuggiti dei loro territori. Perché quando i polacchi iniziarono a controllarli, progressivamente sostituirono la nobiltà, originata dagli antichi russi, diciamo la nobiltà ucraina, con nobiltà polacca. Con il risultato che gli ucraini iniziarono a spostarsi, anche per motivi religiosi, loro erano ortodossi, i polacchi erano cattolici, iniziarono a spostarsi sempre più verso est, portando con sé i propri usi, i propri costumi, la propria lingua, ed espandendosi sempre più nei territori dell'attuale Ucraina orientale. Dove ovviamente però qui si mischiavano. Perché si mischiavano con le popolazioni tatare, diciamo discendenti dei mongoli ancora esistenti, e si mischiavano i russi, che invece arrivavano da nord. A complicare questa situazione, ovviamente ci si mise la Russia. Perché questo dominio polacco non durò per sempre. Durante il XVIII secolo, all'inizio del XVIII secolo, la Russia progressivamente iniziò ad espandersi nei territori dei polacchi, strappando loro territori, conquistandoli, e alla fine, insieme all'Austria-Ungheria, alla Prussia, addirittura spartendosi tutto l'antico regno di Polonia-Lituania. In questo modo, gran parte dell'Ucraina rientrerà nel territorio dei russi, a parte una parte, la parte più occidentale, che invece finirà all'Austria-Ungheria, in grosso modo il territorio di Leopoli e poi da lì verso l'Occidente. Se ne sente parlare oggi come un po' il cuore dell'Ucraina a parte Kiev. Quando però i russi, che ovviamente non erano i russi comunisti, siamo ancora all'epoca degli zar, l'impero zarista, occuparono l'Ucraina, cercarono in tutti i modi di russificarla, vietando l'uso dell'Ucraino, l'insegnamento, chiedo scusa, dell'Ucraino, cercando di spingere popolazioni russe a emigrare in questa zona, e in questo modo complicando ancora di più le cose, perché ovviamente l'Ucraino venne lentamente abbandonato e sopravvisse principalmente nelle famiglie, grazie alle canzoni, grazie ai racconti e ai miti, e si iniziò a mischiare sempre di più con chi, tra chi parlava ucraino, ucrainofoni, diciamo così, e chi parlava invece il russo, russofoni. La terza domanda a cui ci porta questo discorso è i rapporti tra l'Ucraina e la Russia sono sempre stati buoni fino agli ultimi anni, come qualcuno dice, dicendo che la colpa è del governo ucraino attuale se questi rapporti si sono rotti? In realtà non è così di nuovo, la risposta è di nuovo no, e di nuovo no, perché al di là di queste politiche della russa zarista, quando anche la russa zarista con loco la rivoluzione, i rapporti tra l'Ucraina e la Russia rimasero molto difficili per molti anni. Innanzitutto, quando ci fu la rivoluzione, l'Ucraina non si unì subito ad essa, ma venne a crearsi uno stato ucraino autonomo, che come vedete dalla cartina rivendicava un grandissimo territorio, più grande addirittura di quell'Ucraino attuale, che nacque e inizialmente combatté contro la rivoluzione, insieme alle armate bianche. Quando però, ovviamente, questo territorio, quando le armate bianche saranno sconfitte, anche l'Ucraina sarà conquistata dall'armata rossa, e i rapporti tra ucraini e russi inizialmente non saranno buoni. Sotto dominio di Stalin, come ho raccontato qualche pidola fa, ci fu il cosiddetto Olodomor, cioè una grande carestia che all'inizio degli anni 30, del secolo scorso, del XX secolo, uccise qualche milione di ucraino, anche dei kazachi, ma insomma, adesso concentriamoci sull'Ucraina, c'è una pidola dedicata a quello, e secondo gli ucraini, ancora oggi, dicono che quella carestia non fu causata dalle politiche agricole sbagliate di Stalin, ma fu in realtà apertamente causata volontariamente da Stalin che cercava di provocare un genocidio del popolo ucraino. Ripeto, di queste cose ne ho parlato in una pidola, sono un po' più complicate di così, vi mando lì per approfondire, ve la metto in descrizione. Capite? Che quindi i rapporti fra le due popolazioni non fossero proprio facilissimi. aggiungiamoci il fatto che l'Ucraina era a tutti gli effetti la parte più occidentale a sud dell'Unione Sovietica, capirete come in questa zona anche per motivi militari vennero trasferite tutta una serie di russi o genti provenienti da altre zone dell'Unione Sovietica che qui misero su famiglia e impiantarono anche a causa della presenza di industrie e siti estrattivi ovviamente impiantarono una nuova popolazione di origine russa. Questo breve racconto iniziale ci porta all'anno da cui tutta questa storia però parte cioè il 1991. L'Unione Sovietica si sta frantumando gli stati baltici si sono resi autonomi progressivamente tutti gli altri stati che un tempo facevano parte dell'Unione Sovietica si stanno distaccando dal governo di Mosca in futuro magari parleremo un po' meglio di questo e tra i vari stati nasce anche l'Ucraina. Quando nacque l'Ucraina aveva nei confronti della Russia tre grossi problemi. Il primo problema era relativo ad un territorio di cui oggi si sente tanto parlare cioè la Crimea. La Crimea è questa penisola che vedete qua e che ufficialmente nel 1991 passò all'Ucraina perché nel 1990 anno precedente per intenderci faceva parte della Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina parte dell'Unione Sovietica quindi tutta quella Repubblica interna dell'Unione Sovietica si era staccata diventando autonoma. C'era un problema però la Crimea in realtà era stata unita alla Repubblica Socialista di Ucraina solo nel 1954 staccandola dai territori della Russia ed era stato tra virgolette un dono fatto da Nikita Khrushchev che era peraltro di origine ucraina proprio all'Ucraina stessa. Il problema era che la Crimea era abitata principalmente da genti russofone che quindi parlavano russo e in più in Crimea c'erano le più importanti basi navali del Mar Nero della flotta proprio del Mar Nero. Il secondo problema era questa flotta che era la seconda flotta più importante tra quelle dell'ex Unione Sovietica e che si trovò al momento dell'indipendenza ucraina ad essere all'interno del territorio ucraino anche se in realtà la maggior parte dei loro comandi erano invece di origine russa. Il terzo problema che era legato sempre alle armi era il fatto che nel 1991 se foste andati a fare una lista dei paesi per numero di testate nucleari da loro disponibili sul loro territorio avreste trovato al primo posto gli Stati Uniti al secondo posto la Russia e al terzo posto l'Ucraina. Ora non è che l'Ucraina producesse testate nucleari ma quando si era staccata tutte quelle che erano state posizionate lì ai tempi dell'Unione Sovietica che fossero missili testate bombardiere a lungo raggio per sganciare quelle testate ovviamente erano rimaste in Ucraina creando però una difficile situazione con la Russia anche perché se quelle testate si trovavano fisicamente in Ucraina molto spesso le catene di comando che potevano ordinarne l'utilizzo si erano invece trovate ad essere in Russia e questo ovviamente aveva creato un certo scontento tra le due parti. questi tre problemi erano stati affrontati dal punto di vista diplomatico con lunghe trattazioni in cui ovviamente erano entrati anche i paesi occidentali che erano molto preoccupati del destino delle testate nucleari ucraine. Il risultato era stato un accordo l'accordo era molto semplice prevedeva innanzitutto che l'Ucraina si disfasse di quelle testate nucleari la maggior parte sarebbero tornate in Russia che le avrebbero riacquisite come parte dell'arsenale sovietico una parte sarebbe stata smantellata e in effetti dal 1994 in poi l'Ucraina si dichiarerà aderirà al trattato di non proliferazione e si dichiarerà libera da queste testate nucleari. La flotta del Mar Nero che ovviamente era un'arma formidabile passerà quasi interamente alla Russia poco più dell'80% delle navi passeranno alla Russia mentre il resto rimarrà all'Ucraina. In cambio però la Crimea sarebbe rimasta dell'Ucraina quindi la Crimea viene riconosciuta nel 1994 dalla Russia come parte dell'Ucraina fatta salvo alcune basi navali nella zona di Sebastopoli che l'Ucraina accettava di affittare alla Russia quindi la base navale principale della Crimea sarebbe stata affittata alla Russia che l'avrebbe potuta utilizzare per mantenervi ovviamente la flotta. Quell'affitto sulla carta sarebbe dovuto dorare fino al 2017 in grosso modo ma nel 2010 come vedremo sarà poi rinnovato fino al 2042 sempre per motivi economici ma vedremo perché sarà qualcosa che provocherà problemi in Ucraina. Alla fine di questo trattato che quindi grosso modo sembrava risolvere il problema i due stati firmarono un trattato di amicizia un trattato di amicizia che sulla carta vedeva la Russia riconoscere l'Ucraina nei confini attuali l'Ucraina riconoscere la Russia e in qualche modo unire i due stati. Se fossimo rimasti così la situazione probabilmente sarebbe rimasta sempre pacifica ma a questo punto mettiamo da parte la politica internazionale e iniziamo a parlare dell'Ucraina in sé perché è dalla sua politica interna che nacquero poi tutti i problemi successivi. Nel 1994 dire politico Ucraina voleva dire parlare del suo presidente eletto proprio in quell'anno che si chiamava Leonid Kuchma. dal punto di vista politico Kuchma aveva una politica estera diciamo molto ondivaga e nei suoi due mandati perché sarà poi rieletto e governerà fino al 2004 cercherà di ondeggiare tra il blocco occidentale quindi l'Unione Europea e la Russia senza staccarsi da nessuno dei due per cercare di prendere il meglio da ambo le parti. Questa gestione del potere sulla carta in Ucraina veniva venduta come il modo migliore per cercare di far ripartire l'economia ucraina convertirla ad un'economia di mercato e in qualche modo portare ricchezza al popolo ucraino e sarà proprio su queste basi che Kuchma verrà rieletto per due volte peraltro con maggioranze molto diverse perché se alla prima elezione prenderà voti principalmente nella parte più orientale dell'Ucraina dove è inutile che ve lo dica la maggioranza della popolazione è russofona quindi parla principalmente russo nelle seconde elezioni verrà votato principalmente invece dalla parte più occidentale quella proprio Ucraina vera e propria questo a dimostrare come in effetti le sue politiche cercarono sempre di mantenere un certo equilibrio un politico perfetto verrebbe da dire in realtà non pare perché in Ucraina venne accusato a più riprese innanzitutto di incapacità perché in realtà l'Ucraina conobbe una crescita economica molto lenta e come molti paesi del blocco sovietico farà molta difficoltà ad adattarsi all'economia liberista che esploderà in Ucraina portando molto spesso ricchezza a pochissimi e povertà a tanti dall'altra parte verrà accusato a più riprese di corruzione di aver utilizzato parte dei soldi pubblici per motivi privati fino a quando nel 2000 non esploderà addirittura uno scandalo che è detto lo scandalo delle cassette queste cassette erano delle registrazioni fatte dalla guardia del corpo di Kuchma nel quale lo stesso Kuchma sembrava raccontare delle cose fatte da lui durante il suo mandato che ovviamente non avrebbero dovuto circolare tra queste e farà tantissimo scalpore a livello internazionale il fatto che Kuchma avesse venduto degli armamenti principalmente dei radar al regime di Saddam Hussein un regime che all'epoca era sotto embargo a cui non si poteva vendere assolutamente nulla ovviamente di nascosto e questo per intascare una parte del denaro che era stato raccolto a livello locale però farà molto più scalpore il fatto che Kuchma sembrava confermare quelli che erano i sospetti di molti sul fatto che fosse stato lui il mandante di un assassino politico qualche mese prima era stato trovato morto decapitato peraltro poveretto un giornalista che si chiamava Georgi Gongazze il quale aveva scritto a lungo contro il presidente contro la sua politica contro la corruzione del suo governo e era stato trovato morto e sembrava che quelle cassette annunciassero proprio il fatto che fosse stato l'ex presidente a richiedere quella morte ovviamente il presidente cercò in tutti i modi di negare disse che le cassette erano finte che erano state artefatte che non c'era niente di vero anche se in realtà molti analisti soprattutto stranieri dissero che in realtà quelle cassette erano vere non c'erano segni di manomissione non c'erano suoni strani sembravano essere vere registrazioni preso ovviamente di nascosto violando la sua privacy ma che a tutti gli effetti raccontavano delle cose vere questa situazione unita al fatto che la crisi economica come vi dicevo non accennava a fermarsi fece crollare la popolarità dello stesso Kuchma e fece nascere un movimento che fu a tutti gli effetti il primo vero movimento di protesta in Ucraina un movimento che con un nome molto semplice si chiamava Ucraina senza Kuchma cioè che era quello ovviamente il loro desiderio questo movimento era fatto da politici di varie fazioni da quelle più a sinistra gli ex comunisti in parte i socialisti ma anche delle fazioni più nazionaliste che vedevano principalmente nella necessità per l'Ucraina di confermare la propria entità come nazione partendo proprio dalla loro unicità quindi in qualche modo mettendo da parte il fatto che l'Ucraina fosse uno stato abitato da genti di lingue e culture diverse ma concentrandosi maggiormente sull'Ucraina e su quell'Ucraina che parlava ucraino in questa fazione nazionalista iniziò a crescere l'astro di una deputata del Parlamento la quale addirittura era stata in parte vicino a Kuchma poi era stata allontanata dai suoi ruoli di potere e che si legherà proprio a questa rivolta con cui inizierà a farsi conoscere quella deputata si chiamava Yulia Timoshenko Yulia Timoshenko ritornerà per i prossimi anni quindi tenetevi lì non vi dico molti nomi ma qualcuno serve anche perché verrà poi nominato ecco Yulia Timoshenko è proprio l'esempio di come a volte noi facciamo fatica a capire la politica di altri paesi perché la paragoniamo alla politica nostra ora se noi pensiamo a un politico a un partito diciamo nazionalista italiano tra l'altro anche comandato da una donna ci viene in mente Fratelli d'Italia tanto per farvi un esempio molto semplice che è un partito nazionalista diciamo prima gli italiani semplificando molto che è anche anti-europeista passatemi il termine comunque un po' euroscettico mettiamola così in Ucraina la situazione è il contrario perché questi partiti fortemente ucrainofoni ucrainofili chiedo scusa che quindi sono molto a favore dell'Ucraina come lingua come popolazione tra cui anche quello di Yulia Timoshenko peraltro farà un partito che poi si chiamerà patria praticamente ebbene questo partito di Yulia Timoshenko era anche molto pro Europa sembra sembra una contraddizione questo partito di destra che è molto pro Europa perché perché in realtà per la parte ucraina dell'Ucraina avete capito quella dove si parla ucraino l'Europa era vista come il partner più affidabile e a cui ci si poteva maggiormente legare staccando lo Stato dalla Russia e in qualche modo togliendo potere a quella parte quella più orientale che invece era abitata principalmente da russi questo movimento di protesta progressivamente crescerà aumenterà di dimensione diventerà sempre più importante imbarcherà sempre più partiti e si verrà a creare una vera e propria coalizione contro il presidente che nel 2004 arriverà alle elezioni alle elezioni politiche del 2004 questo blocco si presentò abbastanza compatto a capo non c'era Giulia Timoshenko non era lei la candidata presidente ma c'era un politico proveniente da un altro partito che faceva parte della coalizione che si chiamava Viktor Yushchenko Yushchenko era un politico di lungo corso era stato presidente della banca centrale era stato addirittura primo ministro dal 1999 al 2001 ma era stato sempre considerato abbastanza lontano dalle politiche presidenziali ed era uscito soprattutto assolutamente pulito dallo scandalo delle cassette che aveva travolto la politica peraltro negli anni in cui lui era primo ministro questa coalizione ben presto iniziò a radicarsi anche perché ne facevano parte appunto partiti fortemente nazionalisti nella parte più occidentale del paese intorno alla capitale Kiev Aleopoli in tutte quelle zone in cui si parlava appunto ucraino in cui la cultura era ucraina contro questa coalizione si schierò ovviamente il partito del presidente Kuchma che era il cosiddetto partito delle regioni Kuchma però non poteva ripresentarsi aveva già fatto due mandati la sua popolarità peraltro era in carico in calo e per questo venne candidato colui che all'epoca era il primo ministro e che si chiamava Viktor Yanukovic fin dall'inizio Yanukovic aveva fatto una forte politica di opposizione anche verbale al gruppo di Yushchenko e l'aveva fatto cercando di sollevare quella parte di Russia che lo so di Ucraina la parte più orientale in cui si parlava principalmente russo contro la possibilità che potesse diventare Yushchenko presidente Yushchenko venne venduto come una persona che voleva spaccare il paese che voleva togliere diritti ai russofoni addirittura venne accusato di essere nazista quindi di voler imporre un'etnia sulle altre che abitavano l'Ucraina questi discorsi fecero effetto e permisero al partito delle regioni di recuperare tantissimi voti soprattutto nella parte orientale del paese lo scontro tra i due ad un certo punto divende anche fisico perché Yushchenko nel settembre del 2004 fu addirittura avvelenato si temette per la sua vita ma riuscì a salvarsi anche se rimase sfigurato e molti pensarono che il mandante di quell'avvelenamento fosse proprio Yanukovic o qualcuno del suo partito al primo turno delle elezioni non si presentarono solo loro si presentarono vari altri partiti e questo impedì ad entrambi i contendenti di raggiungere il 50% ed essere eletti direttamente ma un po' come succede in Francia tanto per capirci si passò al secondo turno in cui si doveva scegliere semplicemente tra i due questo secondo turno inizialmente sembrò vedere in vantaggio la fazione di Yushchenko il quale al momento degli exit poll sembrava avere un vantaggio addirittura di 11 punti quindi dell'11% sul suo rivale un vantaggio enorme che sembrava essere assolutamente incolmabile quando però vennero scrutinati i voti e la commissione elettorale annunciò i risultati si scoprì che le cose erano andate al contrario che Yanukovic aveva vinto con addirittura il 3% dei voti in più rispetto al suo avversario una differenza tra exit poll e risultati reali del 14% che nessuno inizialmente riusciva a spiegarsi in realtà Yanukovic che venne dichiarato essere il nuovo presidente disse che quella differenza nasceva dal controllo che il suo avversario Yushchenko Latimoshenko e tutti gli altri avevano sui mass media i quali avevano cercato di favorirlo annunciandolo come vincitore dall'altra parte invece Yushchenko iniziò a dire che quelle elezioni erano state truccate e in effetti molti osservatori internazionali iniziarono a riportare che ai seggi erano state segnalate violenze erano stati segnalati voti multipli per le stesse persone erano state segnalate tutta una serie di corruzioni e falsità che potevano spiegare il motivo per cui il risultato era cambiato così tanto a questo punto iniziano a scoppiare delle rivolte delle proteste tra cui le più famose sono quelle che avvennero a Kiev che inizialmente erano divise tra chi era pro coalizione pro Yushchenko e pro Yanukovice ma che ben presto si coalizzarono semplicemente diventando principalmente proteste pro Yushchenko ora la coalizione di Yushchenko utilizzava come proprio simbolo come proprio colore una piccola coccardina un piccolo un piccolo nodo arancione e quella rivolta verrà conosciuta anche in occidente come la rivoluzione arancione anche perché i vari leader iniziarono a usare dei simboli di quel colore era famoso ad esempio proprio Yushchenko che usava una sciarpa arancione man mano che queste proteste crescevano e si spandevano nel resto delle province ucraine iniziavano a sorgere anche delle proteste di senso opposto che si concentreranno principalmente a este tra chi aveva realmente appoggiato Yanukovic non voleva che quelle elezioni venissero invalidate e minacciava qualora succedesse che le regioni più orientali si sarebbero potute staccare dall'Ucraina o diventare completamente autonomo o parzialmente autonome se il risultato non fosse stato confermato il 3 dicembre però la corte costituzionale dopo aver valutato tutte le prove annunciò che le elezioni erano state falsificate e si sarebbero dovuti ritenere il 26 dicembre del 2004 si ritennero e questa volta le elezioni che vennero dichiarate essere decisamente più libere a vincere fu Yushchenko il quale battè Yanukovic che ovviamente protestò anche lui per brogli che però non venne e non venne ascoltato protestò e vinse per quasi l'8% dei voti molto più vicino a quelli che erano stati gli exit poll al primo turno a questo punto la coalizione arancione prese il potere anche perché il presidente aveva all'epoca un potere gigantesco molto più grande di quello del parlamento ed era in grado di guidare il paese Yanukovic venne allontanato anche dal suo ruolo di primo ministro e al suo posto divenne primo ministro a completare il potere della coalizione arancione proprio Giulia Timoshenko che creò una nuova alleanza in Parlamento questo nuovo governo aveva promesso una nuova crescita economica aveva promesso un cambio di rotta aveva promesso la fine della corruzione e inizialmente sembra ad agire proprio in quella direzione una delle prime modifiche che vennero fatte fu una modifica costituzionale che riduceva il potere del presidente in questo modo togliendogli quel potere quasi assoluto che aveva fino a quel momento e assegnava una parte dei poteri al primo ministro era ovviamente una scelta politica perché evitava un nuovo concentrarsi dei poteri in una sola persona ma era anche un modo all'interno della coalizione arancione per dividersi quel potere con Yushchenko che rimaneva presidente e la Timoshenko che era diventata primo ministro questa nuova alleanza iniziò ad avere però dei problemi problemi interni perché la parte orientale dell'Ucraina come potete immaginare non era così contenta di questa situazione non era così contenta di avere una nazionalista a capo del partito diciamo che è un po' come se la vecchia Lega Nord quella di Bossi avesse preso il potere diventando primo ministro in Italia e ovviamente all'epoca parliamo magari del 93-94 tutta la parte meridionale dell'Italia non sarebbe stata così contenta di questa presa di potere come potete immaginare ve l'ho molto semplificata ma è per fare un paragone in quest'anno però iniziano anche a esserci i primi attriti tra l'Ucraina e Mosca il nuovo governo guarda d'Occidente ve l'ho già detto e la Russia ovviamente a questo non ci sta e cerca di iniziare a fare pressioni sul governo facendo scendere l'economia ucraina e in qualche modo cercando di farlo crollare è il modo migliore che ha di far pressioni allora come oggi e utilizzando le materie prime il gas sto annunciando proprio dal gas che attraverso l'Ucraina andava in Europa ma ovviamente in parte si fermava anche in Ucraina dove veniva acquistato ed utilizzato ora teoricamente l'Ucraina fino a quel momento e questo faceva parte anche degli accordi segati nel 94 aveva acquistato il gas ad un prezzo di forte favore dalla Russia grosso modo 50 dollari ogni 1000 metri cubi di gas un prezzo che era all'incirca un terzo di quanto invece pagavano i paesi occidentali quando però ci fu questo cambio di potere la Russia attraverso una azienda parastatale in parte privata in parte statale cioè Gazprom ne sentite parlare anche oggi decise di far passare il prezzo del gas a quello di mercato e prima chiese all'Ucraina di pagare 160 dollari ogni 1000 metri cubi poi aumentò questo prezzo addirittura a 210 dollari ogni 1000 metri cubi praticamente quadruplicando quello che gli ucraini pagavano fino a quel momento gli ucraini intanto in realtà avevano già accumulato dei debiti anche sulle scorte precedenti e si rifiutarono di pagare un prezzo così alto minacciando di smettere di acquistare il gas russo ma in cambio di deviare una parte del gas che attraverso la Russia avrebbe dovuto raggiungere l'Unione Europea e di utilizzarlo per i propri scopi a questo punto la situazione iniziò a diventare incandescente ed è forse questa la prima vera crisi tra i due paesi ovviamente entrò nel mezzo l'Unione Europea che si trovò a non avere più assicurato l'arrivo del gas che cercò di appoggiare l'Ucraina cercò di trovare una soluzione di compromesso soluzione di compromesso che alla fine venne trovata con la creazione di una società mista russo-ucraina che avrebbe gestito il gas e che avrebbe venduto un gas misto proveniente dalla Russia ma anche da altri stati al prezzo di 100 dollari ogni 1000 metri cubi quindi un prezzo che era il doppio di quello pagato fino a quel momento ma la metà di quanto chiesto dai russi questa situazione però ricordatevela perché ritornerà in questi anni Latimoshenko era considerata dall'occidente un po' l'anima bella dell'Ucraina ma la situazione non era esattamente così semplice e così chiara anche perché anche nei confronti del suo governo ci furono forti accuse di corruzione forti accuse di favorire una parte del paese rispetto all'altra e questo gli costò un calo di popolarità che alle elezioni successive quelle che si tendero nel 2006 perché il presidente e il primo ministro venivano ovviamente eletti in elezioni diverse la vedrà perdere il confronto nei confronti di Yanukovic che una volta sconfitto per la carica di presidente correrà nuovamente per la carica di primo ministro saranno anni complicati questi per la politica ucraina Yanukovic diventato primo ministro anche smontando la coalizione arancione governerà per un anno ma in realtà vedrà praticamente il suo potere bloccato da quello del presidente Yushchenko che a suon di veti bloccherà qualunque politica anti-europeista qualunque politica pro-Russia del nuovo partito al governo e che alla fine nel 2007 farà addirittura cadere il governo scioglierà le camere e manderà il paese a nuove elezioni a queste nuove elezioni tornerà con queste nuove elezioni tornerà al potere Yulia Timoshenko che governerà per tre anni fino al 2010 saranno anni difficili anni in cui l'Ucraina come il resto del mondo sarà colpita dalla grande crisi economica del 2008 saranno anni difficili dal punto di vista interno perché ovviamente Timoshenko polarizzerà molto il discorso politico fra le due parti dell'Ucraina saranno anni in cui la Timoshenko cercherà di legarsi sempre di più all'Occidente per motivi economici ma anche per motivi politici fino a firmare nel 2008 un preaccordo diciamo un processo e dare vita ad un processo di integrazione commerciale tra l'Ucraina e l'Unione Europea che nella sua visione avrebbe dovuto staccare definitivamente l'Ucraina dall'orbita della Russia per tutti questi motivi mi spiace farvi tutte queste date ma è necessario capire come la politica ondeggiasse veramente in un senso o nell'altro per tutti questi motivi nel 2010 le elezioni presidenziali divennero importantissime a presentarsi erano ancora una volta i due blocchi da una parte e dall'altra e a seconda di chi avrebbe vinto probabilmente la politica ucraina avrebbe preso una strada in un senso verso la Russia se avesse vinto questa volta Yanukovic che si era presentato di nuovo questa volta di nuovo per la carica presidenziale o se avesse invece vinto il blocco europeista il blocco della ex rivoluzione arancione guidato ancora una volta dalla Timoshenko questo blocco però non si presentò unito alle elezioni si era presentata la Timoshenko che raccolse la maggior parte dei voti ma si era ripresentato in polemica con lei anche lo stesso Yushchenko quello che era stato eletto presidente con cui avevano iniziato a discutere e a litigare che le strappò un 6% dei voti e probabilmente le costò l'elezione presidenziale che nel 2010 vide salire al potere finalmente questa volta senza qualche protesta ci fu ma questa volta la corte costituzionale riconobbe la legittimità del voto salire al potere Yanukovic che divenne presidente dell'Ucraina appena salito al potere Yanukovic fece quello che tutti si potevano aspettare rispostò la barra politica dell'Ucraina verso la Russia e lo fece con tutta una serie di scelte innanzitutto cercò di distruggere la modifica costituzionale del 2004 in modo da riaccentrare nelle sue mani tutto il potere dopodiché cercò di eliminare politicamente quelli che erano i suoi avversari ad esempio la Timoshenko sarà accusata per vie giudiziarie prima di corruzione poi di aver intascato una parte del denaro venuto fuori dall'accordo con la Russia per il gas in generale sarà accusata di tutta una serie di accuse che serviranno per iniziare una serie di processi che la vedranno poi imprigionata per allontanarla dalla vita politica dal punto di vista della politica estera virrà come vi dicevo ovviamente verso la Russia e farà naufragare tutti quegli accordi con l'Europa che erano stati firmati fino a quel momento inizialmente sembrerà cercare di mantenerli attivi nonostante l'Europa avesse fatto presente che un accordo economico con lei non poteva esimere dalla liberazione della Timoshenko e da un clima di maggior libertà politica inizialmente Yanukovic sembrò confermare quegli accordi ma nel 2012 decise di farli saltare non si presentò alla firma e a tutti gli effetti riaffermò la lontananza dell'Ucraina dal resto dell'Europa a questo punto riesplosero le proteste e dove potevano riesplodere le proteste ovviamente a Kiev ovviamente nella parte occidentale del paese quella ucrainofona mi spiace continuare a ripeterlo ma è importante capire come progressivamente le due parti si siano polarizzate in un senso e nell'altro queste proteste iniziarono intorno a una piazza di Kiev che si chiama Maidan che deriva da un termine turco appunto per indicare la piazza ma non importa ed essendo pro-Europa perché nacquero proprio dalla scissione di questi rapporti tra l'Ucraina e l'Europa passarono alla storia come le proteste Euromaidan unendo ovviamente le due parole queste proteste che iniziarono nel novembre del 2013 proseguirono andando ad ingrossarsi sempre di più nei mesi successivi crescendo sviluppandosi nel resto dell'Ucraina e vedendo progressivamente sempre più fazioni politiche addirittura sindaci città intere unirsi a queste manifestazioni che chiedevano il ritorno sulla vecchia strada pre-Europa chiedevano che Yanukovic si fattesse da parte chiedevano nuove elezioni alla fine nel febbraio del 2014 Yanukovic deve arrendersi con il Parlamento circondato una parte dei palazzi della politica invasi dai manifestanti Yanukovic deve fuggire da Kiev si rifugia prima nella parte orientale del paese e poi si sposta in Russia dichiarando quello che era avvenuto in Ucraina come un vero e proprio colpo di Stato colpo di Stato che diciamolo chiaramente l'Europa vedeva con grande favore la Russia molto meno questa volta però la reazione delle province più orientali dell'Ucraina non fu pacifica come le altre volte non ci furono solo delle manifestazioni non ci furono solo nuovi accordi ma scoppiarono delle vere e proprie rivolte il primo cuore di queste proteste sarà la Crimea dove tra il 23 e il 25 febbraio una gran quantità di persone dopo la deposizione di Yanukovic scesero in piazza per chiedere una maggiore autonomia per la Crimea anche perché il Parlamento di Kiev tra i suoi primi atti e non sarà sicuramente una delle scelte migliori dichiarerà l'Ucraino come l'unica lingua del paese ponendo fine a tutti gli effetti a quella situazione di bilinguismo che in qualche modo aveva salvato Capra e Cavoli queste proteste conosceranno però un grosso cambiamento dal 27 febbraio quando un gruppo di soldati senza insegne senza nessuna indicazione da dove provenissero ufficialmente saranno dichiarati essere dei miliziani crimeani senza maggiore indicazione normalmente vengono chiamati i piccoli uomini verdi ovviamente per come erano vestiti ebbene questi soldati circondarono il Parlamento crimeano e convinsero i suoi deputati a votare per un distacco dall'Ucraina a votare per il riconoscimento dell'indipendenza della Crimea dall'Ucraina questi soldati ovviamente non erano crimeani e nelle ore successive si assicurarono che la Crimea non potesse essere controinvasa dalle forze ucraine da dove provenivano questi soldati? beh ovviamente come potete immaginare erano soldati russi che agivano senza insegne e che avevano spinto un Parlamento comunque diciamolo chiaramente assolutamente russofono assolutamente russofilo quindi orientato verso la Russia verso la scelta dell'indipendenza il 4 di marzo Putin disse al mondo che lui con quello non c'entrava nulla che era una scelta della Crimea che lui assolutamente non aveva nessuna intenzione di annettere la Crimea alla Russia ma le cose andarono diversamente perché dopo l'indipendenza il 16 di marzo in Crimea si tenne un referendum un referendum che spinse il popolo crimeano a votare non sappiamo quanto liberamente a favore dell'annessione della Crimea alla Russia che avvenne il giorno successivo il 17 di marzo il 4 di marzo Putin aveva detto che non sarebbe mai successo il 17 di marzo venne firmata l'annessione intanto però stavano scoppiando altre rivolte oltre alla Crimea anche negli altri territori in cui la maggioranza della popolazione parlava russo e in particolare nelle province del Donbass e del Luansk le vedete qua a fianco che sono quelle di cui si parla ancora oggi queste manifestazioni dalla fine di aprile del 2014 sfociarono in uno vero e proprio conflitto armato con le forze autonomiste probabilmente armate e rifornite dalle forze russe che presero il potere sconfissero le forze ucraine lì presenti e iniziarono ad occupare il paese questa volta l'Ucraina reagì mandò il proprio esercito che non era decisamente meno addestrato di quello attuale ma che comunque era in grado di avere a che fare con dei ribelli e progressivamente nei mesi successivi con una serie di aspri combattimenti riconquistò una parte dei territori su cui i ribelli si erano insediati tra cui ad esempio la città di Mariupol di cui si sente parlare molto in questi giorni il 25 agosto però le cose cambiarono i ribelli fecero una controffensiva che ricacciò indietro gli ucraini riconquistò tutta una serie di territori e ristabilì il loro potere che stava progressivamente venendo schiacciato su una parte del Donbass e proprio del territorio di Luans che dove vennero create delle due repubbliche ribelli autonome che ovviamente non vennero riconosciute praticamente da nessuno al mondo che cosa era successo? beh era successo che ancora una volta erano sbucati questi uomini verdi questi piccoli uomini verdi che avevano portato con sé armi che avevano portato con sé carri armati e con quelle armi quei carri armati avevano appoggiato la rivolta dei rivoltosi del Donbass e del Luans che avevano ricacciato indietro gli ucraini addirittura un reparto di paracadutisti russi che dovettero identificarsi a quel punto una volta che siano stati catturati come russi sarà catturato a causa di un lancio sbagliato dagli ucraini ma la russa dirà che era semplicemente stato un lancio sbagliato e che loro non centravano assolutamente niente con quelle rivolte ora ripeto non esiste nulla di ufficiale ma sanno tutti quale fosse l'origine di quei soldati che non erano sicuramente sbucciati e sbucati dal nulla a questo punto l'Europa cercò di intervenire cercò di intervenire e di mediare una soluzione tra i due paesi o meglio tra l'Ucraina e i rivoltosi che erano rappresentati ovviamente dalla Russia questa soluzione porterà i cosiddetti accordi di Minske i primi accordi di Minske che prevedevano un progressivo rilascio dal punto di vista militare una tregua e cercare una qualche soluzione immediata tra i due stati questi primi accordi però fallirono nei mesi successivi riscoppiarono nuovi combattimenti che ancora una volta videro le truppe autonomiste avere la meglio riconquistare anche alcuni aeroporti insomma riuscendo in qualche modo a espandere il proprio dominio videro ancora una volta le forze russe intervenire espandendo i territori delle repubbliche autonomiste e portarono a un secondo cessate il fuoco e i cosiddetti accordi di Minsk 2 che vennero firmati nel gennaio del 2015 e che questa volta veramente raffreddarono la guerra raffreddare la guerra non vuol dire che in quelle zone la guerra terminò ma che diciamo passò divenne quello che viene normalmente chiamato un conflitto a bassa intensità cioè una guerra in cui ci sono ancora scontri senza che però seguono una linea di confine che praticamente non cambia più in cui miliziani ed esercito da una parte dall'altra continuano a scontrarsi con vittime permettendo però un po' al resto del mondo in qualche modo di dimenticarsene perché è quello che è successo in questi anni ci siamo progressivamente dimenticati che nella parte più orientale dell'Ucraina si stava combattendo tra un governo ucraino a Chieve che avendo ovviamente perso anche tutta una buona massa di voti russofili è ormai dichiaratamente un governo pro-europeista che inizierà a orientarsi anche verso la Nato ovviamente in posizioni anti-russe anche se c'è da dire praticamente nessun analista al mondo ha mai pensato che l'Ucraina potesse in qualche modo entrare nella Nato questo bisogna dirlo ma in qualche modo si orienta in quella direzione ma il conflitto in quelle zone è continuato nel 2019 il presidente dell'Ucraina Poroshenko sarà sostituito da Volodymyr Zelensky che è l'attuale presidente dell'Ucraina ha una storia molto particolare il suo si chiama il partito dei servitori del popolo Zelensky era in realtà un attore diciamolo chiaramente che faceva una specie di commedia una serie comedy come si chiamano che in cui proprio era il presidente dell'Ucraina capo di questo partito e il programma aveva proprio questo nome ad un certo punto a causa delle solite accuse di corruzione era nata questa piattaforma per trasformare questo partito fittizio in un partito reale un partito ovviamente di centro un partito fortemente populista e anticorruzione e Zelensky aveva preso il potere e nelle elezioni del 2019 a sorpresa era riuscito a vincere e a diventare il premier del paese nonostante il passaggio di poteri la situazione non era cambiata e l'Ucraina era rimasta fortemente orientata verso l'Occidente aveva iniziato a chiedere una qualche soluzione per quelle province autonomiste che continuavano la loro esistenza sotto la protezione della Russia di Putin e così si arriva ai giorni nostri cosa è avvenuto in queste ultime settimane lo avete visto tutti la situazione si è inasprita i russi che già prima avevano più volte minacciato dal punto di vista militare l'Ucraina hanno ammassato truppe hanno poi riconosciuto ufficialmente quelle province secessioniste ed è iniziata poi la guerra ma di questo ovviamente è inutile che ve ne parli perché l'avete visto succedere in queste settimane quello che cerco di raccontarvi con questa puntata è come la situazione in questo caso sia molto complicata come in effetti uno stato che era composto da più anime abbia iniziato progressivamente a polarizzarsi vedendo queste anime scontrarsi in una direzione e nell'altra questo scontro da politico interno è progressivamente salito di livello diventando uno scontro internazionale con da una parte Putin e la Russia che hanno sfruttato la componente russofona per cercare di mantenere l'Ucraina nella loro orbita come era stato per qualche modo per tutto il periodo dell'Unione Sovietica e dall'altra l'Unione Europea e la Nato che hanno cercato invece di sfruttare la parte più occidentale per cercare di portare l'Ucraina dalla loro parte non esiste una soluzione e come vi avete visto in questo racconto in realtà l'Ucraina è sempre stata fortemente spaccata al suo interno tra queste due componenti tanto che le elezioni sono state vinte spesso alternativamente da una parte e dall'altra è ovvio che qualunque sia la soluzione che si poteva trovare la guerra è decisamente la peggiore di tutte ma su questo credo che siamo tutti abbastanza d'accordo io mi fermo qua spero di non aver complicato troppo le cose ma volevo veramente mostrarvi un po' tutti gli aspetti spero di avervi spiegato un po' della storia dell'Ucraina e che tutto questo sia stato interessante come sempre se volete riascoltare questa pidola potete farlo qua su Youtube potete farlo sul nostro podcast e per il resto vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista ha mai la fantasia di mettere nelle loro opere e tutto quello che vi ho raccontato potrebbe essere approfondito da tantissime di queste storie speriamo che l'ultima che ci sarà da raccontare cioè quella della guerra possa essere una storia molto breve e il più possibile priva di momenti tristi ma credo che non sarà così e credo che dobbiamo capirlo tutti ora potete scrivere quello che volete qui sotto nei commenti insultarmi che sono pro russo pro ucraino pro nato pro groenlandia non mi importa approfondite pure qua sotto perché c'è tanto da discutere cercate solo di farlo civilmente ultima cosa oggi era venerdì l'ho già scritto in community avrebbero dovuto esserci gli imperatori lo so la sposto a lunedì lunedì ci sarà la pillola sugli imperatori la pillola sui balcani passa la prossima settimana scusatemi ma era un po' un necessità di spostare il tutto grazie di avermi seguito fino qua ci vediamo presto con nuove pillole di storia a presto ciao ciao ciao